Buonasera dal gruppo di artisti ipini, continuiamo il nostro viaggio quando riguarda gli artisti ipini in vetrina Pianappi, questo è un quadro di Sabatino Santorelli, artista del mandamento di Avella che ritrae una giovane donna, mentre qui sotto forse un quadro emblematico che rappresenta il momento attuale dell'uomo, pensieri. Questo invece è di Pellegrino Capobianco dal titolo Erba Smeraldo, vediamo tutti i particolari con le stelle, vediamo che questa mostra sarà presente fino al 13 di settembre a Via Nappi ad Avellino del 10 settembre 2014 e con questo vi salutiamo dal gruppo di artisti ipini.